L'Eurovision Song Contest va oltre i propri confini. L'Australia è stata invitata a partecipare all'edizione 2015 a Vienna, il cui tema è costruire punti. Il paese dovrà selezionare l'artista che lo rappresenterà per tentare di succedere a Conchita Wurst. Si ipotizzano i nomi di Kylie Minogue e del gruppo ACDC.